Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ho trovato un pacco che avevo ricevuto più o meno due o tre mesi fa nel quale mi ero completamente dimenticato. Sapete che noi riceviamo tantissima roba ogni giorno per cui tendiamo ad accumulare ma fondamentalmente mi è tornato in mente di avere questo pacco quando ho visto che i Pink Floyd hanno annunciato la nuova versione di Animals storico disco del 1977 che mi sembra a settembre, adesso non ricordo bene quando sarà ripubblicato in una nuova versione. Questo pacco contiene in realtà la riedizione, o meglio la versione remixata e rimasterizzata di A Momentary Lapse of Reason, ovviamente in cd e vinile ed è una versione molto interessante perché partendo già dal presupposto che abbiamo un dettaglio in più sulla copertina che prima non c'era, ovviamente dopo vedremo anche la versione originale, ma abbiamo un mix completamente nuovo, infatti c'è scritto Remixed and Updated nel 2019, quindi è una versione recente, molto recente, di appena 3 anni, ovviamente su 180 grammi e per quanto riguarda il vinile è a mezza velocità, ovvero siamo a 45 RPM, per cui sicuramente adesso lo unboxiamo insieme, entrambe le versioni, vediamo le differenze con quelli originali e così spendiamo due parole su questo fantastico gruppo. Allora, come al solito in questi casi partiamo sempre con l'apertura del cd perché è più maneggevole ed è più facile mostrare l'intero contenuto. Allora, qui vediamo una confezione cartonata, molto semplice e abbiamo qua il cd con questa grafica ovviamente rifatta con questo aereo. Mentre per quanto riguarda il booklet, un taglio particolare perché è un pochino più stretto del solito, andiamo a vedere diciamo il contenuto. Qui vediamo questa foto dei ormai giovani David Gilmore, Nick Mason e Richard Wright e poi abbiamo una infinità di ospiti che hanno suonato su questo album e ovviamente dobbiamo sottolineare il fatto che questo è il primo album senza Roger Waters e quindi il basso era già suonato da altri, in questo caso da Tony Levin, quindi nome super famoso e poi vabbè tanti altri ospiti che adesso poi vi leggerete se avrete la possibilità di rimediare questa versione. Per il resto diciamo che sono le classiche illustrazioni alle quali i Pink Floyd ci hanno abituato per tutti questi anni. Sono delle immagini che quando tu le vedi in automatico dici Pink Floyd, sono diciamo la loro caratteristica utilizzare questo tipo di immagine. Qui vediamo quest'altra foto e sottolineo ragazzi che stile, cosa che oggi ci sogniamo, e va a concludere un booklet assolutamente bello e molto ricco. Se andiamo a prendere un attimo al volo la versione originale, quella che io ho praticamente, non mi ricordo da quando è uscito fondamentalmente, vedete che addirittura in foto non c'era Richard Wright e il booklet era veramente molto più scarno. Qui dovete sapere che non c'era Richard Wright perché apparentemente Richard Wright era stato così licenziato dopo The Wall da Roger Waters, e quindi in questo disco ancora non era chiaro il suo ruolo, però fondamentalmente e per fortuna nella riedizione compare. Per quanto riguarda il vinile andiamo a fare lo stesso tipo di unboxing e allora vi dico subito che il materiale utilizzato per la copertina è fantastico, sembra di velluto, niente a che vedere con quello lucido originale, questo è veramente stupendo, un vellutato veramente bello da toccare e da avere. Ho noto con piacere che anche qui c'è il booklet ma è gigante e questo diciamo è quello che secondo me poi alla fine è anche il valore aggiunto del vinile, quello di poter vedere foto e immagini molto più grandi, no? Perché chiaramente su cd per ovvi motivi di spazio non possono mettere roba così grande, ma su vinile invece è possibile, quindi possiamo notare la bellezza delle cose originali giganti. Allora qui vediamo questa foto sia riprodotta in questo modo che qui, che è quella diciamo ritoccata per questa riedizione e vediamo che appunto i contenuti sono presso a poco identici a quelli del cd con grande piacere, vediamo anche Richard Wright che poi fondamentalmente era la stessa foto senza di lui, adesso non so se lui è stato montato in post produzione o se questa era una foto originale, era stato estromesso in origine, questo non lo so, se lo sapete voi scrivetemelo nei commenti. Detto ciò qui andiamo a terminare, ecco questa è una cosa bellissima, evidentemente la versione originale della copertina e vediamo sempre che l'Art Direction era di Storm Torgerson che era quello che praticamente ha curato le cover dei Pink Floyd per praticamente sempre e poi andiamo a vedere quello che è i vinili, sono dei normali vinili nesi da 180 grammi e vediamo anche quest'altro, non è altro che un semplice vinile nero, questi non sono colorati o altro, nel senso che non sono particolari che i Pink Floyd evidentemente gradiscono, sono molto più essenziali ma ragazzi vi sottolineo di nuovo la bellezza del materiale della custodia gatefold del vinile perché è veramente fantastico. Ovviamente giusto per concludere vi dico che nella versione originale, a parte vabbè questa foto qui, non c'era nessun booklet, c'era solo il semplice vinile e qualche informazione era scritta sulla slip case, ma insomma niente a che vedere con questa nuova edizione, motivo in più per acquistarla e aggiungerla alla nostra o vostra collezione. Che poi sarà che io sono veramente un maniaco delle edizioni diverse, delle edizioni varie, ma molte persone che conosco alla fine mi dicono ma che ci fai se comunque il contenuto è lo stesso? Allora è una cosa vera solo in parte perché è vero che il contenuto è lo stesso, ma punto primo in questa edizione particolare è completamente remixato e voi sapete che remixare un album a distanza di quasi 30 anni sicuramente può portare delle diversità epocali. Inoltre Nick Mason ha suonato delle nuove parti di batteria per questa riedizione perché evidentemente all'epoca quando è stato registrato questo era praticamente quasi tutta roba campionata elettronicamente e quindi di base non sto dicendo che è un nuovo prodotto ma è sicuramente molto diverso e quindi ha senso l'acquisto, non è un semplice remastering dove magari cambia qualche dettaglio che è in grado di capire solo qualche appassionato o gente con degli impianti degni di nota. In questo caso è veramente un altro prodotto sicuramente molto valido quindi l'acquisto in questo caso ha veramente senso. Ovviamente vi lascerò in descrizione tutti i link necessari per poterlo acquistare e c'è anche la versione in blu-ray insomma un po' più completa ma in questo caso specifico preferisco avere cd che me lo vado a sentire in macchina e vinile me lo sento qua a casa e quindi in generale preferisco. Cambierà ad esempio per Animals perché so che nella versione blu-ray che uscirà ovviamente poi la vedremo sul canale avrà un mix 5.1 allora in quel caso ha senso comprare il blu-ray perché uno se lo sente nell'impianto con un avendo un impianto 5.1 o superiore sicuramente valorizza il prodotto. A questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi è e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuna delle mie prossime cose. A questo punto vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni ciao